scopri ora chiapasco surgery channel l'esclusivo corso online del professor matteo chiapasco un'opportunità formativa unica conveniente all'avanguardia per aggiornarsi con uno dei massimi esperti sulle tecniche ricostruttive attraverso un percorso video di oltre dieci ore accederai all'esperienza dell'autore sul trattamento di deficit ossei semplici e complessi sette lezioni frontali nelle quali apprenderai come affrontare le procedure chiave della chirurgia ricostruttiva e una selezione di sei chirurgie in formula re live realizzate e commentate durante la pratica corsistica dell'autore i tuoi video on demand dove vuoi quando vuoi da qualsiasi dispositivo e con formula illimitata per 12 mesi oltre 1150 professionisti italiani hanno già scoperto l'efficacia e la convenienza di questo innovativo approccio all'aggiornamento promosso da osteocom scopri i vantaggi di poter portare sempre con te risorse formative di qualità comprovata abbonati accede ai video immediatamente e paga comodamente in un secondo momento a mezzo bonifico o con carta di credito che ricorda tutti i nostri corsi prevedono la formula soddisfatti o rimborsati la relazione di i nostri corsi prevedono la formula soddisfatto alla relazione di i nostri corsi prevedono il tigione del tigione sociale la relazione di i nostri corrisi prevedono la calzazione di attività ci ringraziamo alla città e i nostri corsi prevedono la 이언 fuori da come come